No Ma tu la sobbia di si scoppiare Ma scusa una cosa, io mi sono dimenticato di svincolare, come si fa? Non dobbiamo svincolare noi Devi dire Pupi Ma li avete detti tutti? No, io no Ah, mo li dobbiamo dire No, domani se vuoi Ehi, informatico, informatico della... Senti, Pupi, nemmeno te la giù nome, sai? Solli li hanno dati tutti, eh? Sì, tutti Io se voglio il nome... Moreno, Moreno Ah sì? Ehi, Lucrezia Pire Ah, Lucrezia Pire Guarda come diciamo Moreno, che non lo vedo Su voi Su voi Adri, mi manchi Adri, mi manchi E cosa? Ora Cristiano si chiama... Guarda come dicami tu Giulia Giulia Aspetta Moreno No, io sto facendo tutto il test Silvia ti amo Ma Moreno faccio Yolanda No, io non devo svincolare nessuno oltre a uno Mi dai, mi attenzio Comunque Cristiano mi ha stati parzati da Valenzi Dicendo io non devo svincolare nessuno Sì Quando? Ma cazzo si può... Ma che ti sei fatto sui capelli? Io ho detto Bruno Marzio è diventato... No Sì, quindi... Sì, devi cambiare sempre tu il nome, eh Scrivi Sì, no, no, sto cercando Sì, devi cercare Devi cercare Cic, sei la mia vita No, ma che scrivi Yolanda? Scrivi Valeria ti amo E senza di te non ci do stare E dove siete? Vittoria Yolanda prendiamo un caffè E io E io E io E io E io Vabbè 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 Tutti sono froci fra, a parte gli scherzi, tutti i cantanti sono froci fra. Possiamo eleggere il bot del gruppo? Metti in votazione, non si può fare votazione qua. Partiamo, Federico, chi eleggi come primo bot del gruppo? Allora... No, 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 una alla volta, una alla volta, Federico. Io direi prima di classificare bot. il più sottone aspetta no no federico ma cosa stiamo aspettando che detto no no tu devi dire la lotta è dura quello è andato a ferrara per portare una valigia si aspetta il bot dell'anno no no dobbiamo fare la votazione per chi è il boss del gruppo ognuno esprime una votazione veloce carlo chi dici ho detto bot dell'anno bot dell'anno che ha detto federico oh benzona porco ibra carlo ibra lorenzo chi dice lo sto segnando io lorenzo dice lorenzo lorenzo dice lorenzo lorenzo io voto vale 2 perché io voglio essere decisivo io voglio essere decisivo è vero è vero è vero io sei l'argentone io voto dell'anno non è il bot dell'anno non è il bot dell'anno ok e ibra e ibra e ibra sono due per ibra e uno per lorenzo ma io comunque non ho votato ibra cristiano io mi votavo da solo mio dio che ha fatto wow incredibile cristiano si vota però il voto è la veriva Riccardo hai votato? no allora perché ero già avevo detto di memoria no cioè oppure per esempio no aspetta no no aspetta aspetta c'è a dire no diceva diceva mi ha pagato tutto mi ha pagato tutto ehi c'è da dire non ha pagato niente che pure Carlo perché magari ve lo dimostra adesso però basta una e diventa io ti dico io sei top bot underrated in previsione quindi top bot del futuro Carlo e top bot presente comunque ibra io sei cristiano ibra e federico allora cristiano maglioni cristiano non scherza io allora tutti che dicono cristiano che io dimostro nessuno può parlare aspetta che cristiano chi voti credi modi che devo fare chi devi votare dell'anno schiacciante deve essere io ero molto indeciso però devo votare iber ce lo dire ibera è andato ok aspetta vedete comunque lorenzo è bot comunque da un botto di tempo adesso ci stiamo focalizzando su ibra perché comunque ha iniziato adesso però ricordiamoci che lorenzo però ma se dici io ti dico che c'ha ragione quando stavamo al parchetto io mi lascio io mi lascio io sono fulminato io sono fulmenato ehi bagnoni il giorno dopo se n'è andato a casa della giorgia piangendo piangendo ok manca fedelico quanto stiamo i voti manca fedelico comunque c'è a dire libra si è inventato ci ha portato la valigia a ferrara non l'ho portata 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 a ferrara c'è da dire riccardo riccardo si è preso il covid per stare con la francesca davvero aspettano ti siete ancora le canzoni chip ti amo chip volevo dire accanto a te ma l'avetevi seguito oggi che la cantava quella canzone bagnoni e comunque c'è da dire anche una cosa che nessuno nessuno è mai riuscito a chiamare un amico per far portare il gelato a casa è vero allora lorenzo da più tempo lorenzo ha più tempo ma le cose che ha fatto lorenzo magari in un anno in qualche mese monoibra in uomo sentite io sto giocando a FIBA ma il mio voto è diventato no no voto voto deve essere schiacciato la vittoria aspetta finisce la proclamazione di Ibrahim bot dell'anno possiamo iniziare l'asta Ibrahim bot dell'anno oh guardatevi gli idropoli e anche qui ho dimostrato lui a parlare guarda c'è da dire che qui la gara è lunga per chi fa le cose possiamo iniziare l'asta fare le cose sotto sotto il banco tipo tipo te Ibrahim Ibrahim sta all'inizio e quindi è comprensibile ma c'è Bruno Mars sono io punto dai però non scherziamo mi ha giocato il cazzo tocca a fare il video chiamato con la materia no 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 dai Vagnoni spicciani Vagnoni non si aspetta ma se non ti chiede che succede ti lascia Vagnoni comunque ho appena fatto l'asta su mille crediti ora mi sparò ti arrabbia tanto e litighiamo poi le chiedo scusa Cristiano che deve spiegare il mi piace pure quello è grave scusa che hanno fatto blanco e coso che